Signor Solinomo, come si chiama? Lunzia Mi dica signora Lunzia, cosa è successo? Ho chiamato il comune, mi hanno dato una cosa di servizio e hanno detto che non hanno operai per pulire E quindi dobbiamo rimanere così? Nella punnezza e nella merda, ci stanno mangiando e scarra a fumarsi L'anno scorso abbiamo pagato noi per disinfettare il piale Abbiamo chiamato una ditta privata Allora, le finestre sono andate a seguire le macchie e dentro i paletti si vedeva a facciare l'anno scorso La sera i motorini ci stanno mangiando Stanno mangiando i pazienti E mi proposto che le finestre pure è male Il comune ci sta proprio abbandonando Però le finestre non ci ho abbandonato E papà, io ho lutto perché pago le tasse A me vanno 444 euro al mano E buonezza E ci sta proprio la scendebre e lì pure E ci sta proprio la scendebre e lì pure